Sono stati traditi dall'odore dell'auto un pungente odore ferroso proveniente dalla BMW usata per la fuga, probabilmente dovuto all'operazione di scasso di una cassaforte. Sono stati così arrestati dalla Polstrada di Arezzo i due presunti autori di un furto da ben 18.000 euro ad un fast food McDonald's a Verona avvenuto la scorsa notte. I poliziotti hanno fermato l'auto con targa straniera che stava transitando lungo la carreggiata a sud della 1 nei pressi di Lucignano. Gli agenti hanno subito constatato che a bordo non c'era solamente il conducente come sembrava all'inizio, ma sul sedile posteriore, completamente sdraiata, c'era un'altra persona che dormiva. I due, un quarantenne ed un trentenne, già noti alle forze dell'ordine, avevano uno strano odore nei vestiti, così gli agenti hanno deciso di andare a fondo e controllare persone ed auto. All'interno del bagagliaio era custodita una grossa borsa contenente diversi attrezzi utili allo scasso ed un capiente marsupio pieno di contanti, ben 15.275 euro, suddiviso in banconote di vario taglio. Dai successivi accertamenti è emerso che presso il McDonald's di Villa Franca di Verona era stato forzato l'ingresso, scassinata la cassaforte, e ha asportato il contenuto pari ad oltre 18.000 euro, forse una parte del maltolto potrebbe essere già stata consegnata ad un complice, un basista del quale è in corso l'identificazione, spiega la Polizia di Stato.